Sì, il nostro sito, così. Voi aiuto e ho acabato il vostro album. E poi, sempre, vado a mettere un po' di lente. Ora, adesso, passiamo il lente fino a qui. Un strepe. Un'altra parte. Stribiamo ad attraversare. Trepe. Ok. Vanno a mettere un pietro di dei papelli, non? Ah, il resto con la sobra di sono con questa corte. Sì. E anche un extra, no? Un extra, 4. Decora ambas bandas. Una in un colore. Ok. Con un perforato, chiquito, potrà traggare il buraco. Con un perforato chiquito, potrà abri il buraco e potrà passare e sentare per decore. E questa è la quina, potrà mettere il alquina, potrà fare il alquina, o potrà usare come uno. Ok, questo potrà fare 4. Pagano qui. Questa è un album, potrà usare come un recuerdo, come un regalito, un regalito, un con un altro regno? Non, con un altro regno. Tambi potrà usare come un centerpiece, per un tea party. Si potrà usare il regalito, potrà usare come un regalito, come un regalito, un regalito speciale. Nabo mamma, ora dia di mamma. De verda, danki è la quina masca bonita. Nabo ordo, sempre nabo ordo. E queda pendiente pa' otro siman, un altro obra di mando creative time, aki nang, di VIP Show TV